L'iniziativa della sovrintendenza ha messo in campo, questa volta si rafforza ancora di più la sinergia tra la sovrintendenza e il comune di Salerno. Una bella iniziativa questa promossa dalla sovrintendenza che fa il paio con tante altre che sono state condotte dalla sovrintendenza stessa, dall'Università di Salerno, con una serie di riscontri assolutamente elusinghieri per quanto riguarda l'affluenza e il pubblico. Questa è un'iniziativa interessante dove si cimentano un po' di persone con delle console che sono state immaginate, realizzate con delle opere d'arte, indegnamente ci sono pure io. Abbiamo riscoperto questa vena artistica del sindaco? Sono meno di un principiante. I miei trascorsi studi in qualche modo mi portavano ad avere anche qualche espressione al di là della razionalità dell'architettura. Quindi mi concedevo delle trasgressioni che ora espongo in pubblico con qualche pudore. Ma comunque è una cosa... Che cosa hai realizzato per questa mostra? Ho realizzato al pari degli altri amici una console con un pezzo di cotto di De Martino, molto bello il cotto di De Martino, con un'opera che ho chiamato Il mio corpo astrale, che è una tecnica serigrafica, eriografica su materiale, su terracotta, diciamo. Con l'apertura in modo continuo di San Pietro a corte, che tanti risultati sta avendo, soprattutto come numero di visitatori, ma anche il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana. Sì, sì, sono dei numeri importanti che lasciano ben sperare per il futuro sulla nostra scommessa di Salerno città turistica, ma una città turistica fatta anche di episodi cospicui dal punto di vista culturale. Noi abbiamo retaggi formidabili nella nostra città, gli aspetti afferenti ai Longobardi e oltre. Insomma, veramente c'è la possibilità di promuovere anche un brand nel brand, nel senso che la scommessa che noi stiamo facendo è questa, sostanzialmente. Credo che i numeri, le cifre ci diano ragione. E fare di Salerno una destinazione turistica dove si viene, non considerandolo come un hub, cioè un posto dove si viene per spostarsi altrove. Naturalmente è anche questo perché va bene, noi abbiamo luoghi cospicui del nostro territorio, formidabili, ripetibili, delle unicità, delle singolarità. Però si viene a Salerno anche per venire a Salerno e restare a Salerno. E credo che questa è una consuetudine che stiamo scoprendo, che ormai pare abbia preso in qualche abbrivio. Sono certo che lavorando su questo, come stiamo facendo, per il prossimo recente futuro potremo avere delle risultanze importanti. La sponda con la soprintendenza è assolutamente indispensabile per la qualità della soprintendente stessa, dei vari tecnici e delle varie articolazioni, di storici dell'arte e quanti altri. Ed è un patrimonio intellettuale che è assolutamente indispensabile. Quindi va bene così. Diamo l'appuntamento il giorno 11 lunedì alle 17.30 alla Chiesa della Dolorata, al complesso di Santa Sofia. Dottoressa, un'iniziativa importante alla Chiesa della Dolorata lunedì alle 17.30? Direi che è un'iniziativa molto ambiziosa perché raccoglie ben 43 artisti del territorio salernitano. Artisti, è vero che sono del territorio salernitano, ma sono riconosciuti ormai a livello nazionale e internazionale. e quindi è una sfida, una scelta importante fatta dall'ideatore del progetto Augusto Pandolfi e accompagnato dal curatore architetto Raffaele D'Andrea e spero che sia riuscita qualcosa di veramente grande per la città. Un'offerta alternativa e di arricchimento alla manifestazione Lucidi Artista di Salerno. Grazie. ро